Il primo fine settimana di agosto è stato un weekend fuori stagione. Un'improvvisa ondata di maltempo infatti si è abbattuta in Puglia nel pomeriggio di sabato causando un repentino calo delle temperature assieme a vento e ad un vero e proprio nubifragio provocando allagamenti e forti disagi. Molto critica la situazione sulla strada provinciale 231 all'altezza di Montegrosso dove un nubifragio ha creato non pochi disagi alla circolazione a causa degli allagamenti. Situazione altrettanto poco felice sulla canosa Barletta dove l'acqua delle copiussi precipitazioni non solo ha invaso le corsie stradali ma ha provocato ingenti danni alle coltivazioni e ai vigneti richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco e dell'idrovora della misericordia di Andria con i volontari impegnati per tutto il pomeriggio. In contrada a Palombaro la pioggia battente ha messo nei guai padre e figlio che avevano trovato rifugio sul tetto di un'automobile sulla quale viaggiavano. La cooperazione tra il nucleo elicotteri e le squadre aggiuntive dei vigili del fuoco ha permesso di trarli in salvo. Momenti di autentico panico, quelli vissuti nelle contrade di Belluogo e Perazzo che hanno richiesto gli interventi degli operatori del vigili del fuoco di un autobot e di due fuoristrada del servizio boschivo. Ad Andria invece le piogge hanno addirittura provocato l'allagamento di alcuni settori del centro commerciale mongolfiera dove l'acqua ha invaso gli ambienti di alcuni esercizi commerciali. Raffiche di vento, bombe d'acqua e grandinate che hanno colpito la Puglia sono state devastanti soprattutto per le campagne. I campi di pomodori nella provincia di Foggia, secondo i rilievi di col diretti Puglia, risultano tuttora allagati, resi impraticabili dalla intensità dei temporali e con un danno alla produzione dal 30 al 50%. In provincia di Bari, da nord a sud, la grandina è avvento e le piogge torrenziali hanno colpito in particolare uva da tavole e percoche con un danno stimato al momento del 15%. Si registrano danni anche su mandorle e olive. I tecnici di col diretti stanno lavorando lacramente per fotografare esattamente la situazione e supportare le imprese agricole. La tropicalizzazione del clima in Puglia, con ondate di caldo anomalo seguito da precipitazioni violente, rischiano ormai ogni anno di incrinare l'andamento del settore agricolo pugliese.